Siamo tornati nella cucina della Rosa Deventi, la prima prova è andata benissimo direi, se ne sono cavati tutti molto bene, è il momento di preparare il secondo. Chef? Allora, io vi consiglierei di partire con la DP Class perché avrete 15 minuti a partire da adesso a preparare il tocchetto di pesce con le mandorle e la demiglasse di verdure. Pronti? In bocca al lupo, via! Via col tempo ragazzi! Torniamo in cucina, Cinzia, Ramona e Pino devono preparare la cernia alle mandorle, la difficoltà maggiore sarà la cottura come raccomandato dallo chef, un minuto in più o in meno farà la differenza, sembra un piatto facile ma non lo è. Ricordo che il giudizio verrà fatto sui tre piatti, quindi chi dei tre avrà fatto i tre migliori piatti sarà il vincitore di rossetto e cioccolato. Inizia Pino a mettere su le verdure, lo segue Cinzia e anche Ramona. Ricordiamo che il pesce ha una cottura molto veloce, quindi era opportuno preparare prima le verdure. Un consiglio che vi do, non fate bruciare perché poi si sentirà, eh? Non fate bruciare che si sentirà. E lo diremo se si sentirà. Se si sentirà si dirà, certo. Questa è una prova molto più delicata. Visto che Ramona ha aggiunto della zucchina, vuol dire che... Sì, ha spiegato anche la ragione. Sentendo il gusto non la convinceva. Cucinare in triplex, non so se il vocabolo è giusto, comunque insieme agli altri ti dà un attimo di ansia perché è vero che qualche sbirciata, un po' cosa si fa, te lo consenti. Però è proprio vero che c'hai anche l'ansia perché quella sbirciata che ti fa vedere che magari il tuo concorrente ha un passaggio in più, un po' più avanti, ti fa venire un attimino di ansia. Pino ha finito la sua crema, diciamo. Sì, va sul pesce. E va sul pesce. Fai così, guarda. Sale e olio anche per lui. Metti la panna e prepara del pesce. Volevo farlo asciugare un pochino... No, no, metti la panna, non ti preoccupare. Va bene così. Ora aumenta un po'. Ho visto che mentre Pino riesce a mantenere una certa calma comunque, Ramona è un po' più preoccupata, un po' più agitata. Tutti si concentrano sulla salsa di accompagnamento, dimenticando la cernia. Il tempo scorre. Cinzia intanto è la prima a mettere in forno. Pesce nel forno, sì. Ragazzi, sei minuti e cinquanta. Siete proprio coi tempi stretti. La cernia di Pino va in forno. Anche Ramona va a infornare. Ah, forse. Ragazzi, ricordatevi anche voi la vostra cottura. Guardate il tempo. Cinsia è la prima a sfornare il pesce. Secondo lo chef, doveva continuare la cottura. Cinsia sta sfornando il pesce. Com'è? Ti sembra arrivata a cottura? Penso di sì. Non mi ha sfornato il tempo. Allora, io per prima sono riuscita a mettere, a infornare il pesce. Al timer del pesce, ho preso il pesce dal forno, ma lui mi consigliava in effetti di tenerlo ancora qualche minuto. Quindi forse non ci siamo capiti, perché il timer è per qualche altra pietanza. Speriamo che il pesce sia cotto a questo punto, non so che dire. Chiaramente non è facile conoscere i tempi di cottura del forno non proprio. Vedremo. Il pesce di Pino... Il pesce di Pino è pronto. Ha chiesto il concorrente di uscirlo dal forno. Anche Pino riesce ad ultimare il suo piatto. Invece Cinsia sta già impiattando la sua crema. Ramona sta perfezionando la salsa, ma sta trascurando la cernia. Calma, calma, calma Ramona. Ci sono due minuti e mezzo, dai, ci siete quasi. Ramona in forno ha per ultima, il tempo scorre. Vabbè, metterlo in forno puoi farti aiutare, non è un problema. Dici tu quando lo vuoi uscito e te lo usciranno. Manca ancora un po' per la cottura di Ramona, quindi vuole uscirlo 30 secondi prima. Due minuti alla fine. Cinsia invece ha finito il suo piatto, l'ha già decorato. È stata la prima a finire quando manca un minuto e cinquanta. Lì Pino ci sono... Cinsia, visto che sei la prima. Qui ci sono le palette pure. Sono la prima perché in effetti il mio pesce è entrato per prima in forno. C'è la palettina. E quindi è finito un attimo prima. Sei stata più veloce all'inizio. Vediamo Ramona. Che è successo? Non è ben frullato? No. Ah, va bene, ok. Ok, manca un minuto. Ramona sta impiattando ma ancora il pesce in forno. Pino invece sta per completare. Ha messo già il suo pesce. E quindi finisce con la salvia e i pistilli di peperoncino. Ramona invece vuole aspettare che il suo pesce sia cotto. Infatti quando mancano trento secondi va a vedere la cottura. Non vorrei altri dieci... Tre, quattro non ne ho più. Niente, non ce ne è più Ramona. Il pesce deve uscire dal forno. Sì, si puoi staccare il forno. Attenta, non ti bruciare. Pino sta ultimando. Ora mettete l'acqua asciuta. Dieci, nove, otto, sette, sei, cinque, quattro, tre, due, uno, stop. Ramona non riesce a finire la decorazione. Tempo scaduto. Questo è il piatto dello chef Camillo Onnis. Ecco i piatti di Ramona, Pino e Cinzia. Belli ma non perfetti i secondi. Il giudizio dei giudici sarà complessivo sui tre piatti. Chi vincerà la prima edizione di Rossetto e Cioccolato? Qui in questo caso è più che della presentazione. Comunque è ottima. Dobbiamo valutare altre caratteristiche. Mi sembra che andava molto bene la cottura. Devo dire che a me è piaciuto molto. Penso che anche la salsina era perfetta per questo tipo di pietanza. Secondo me la consistenza era quella giusta e secondo me complimenti alla concorrente. Comunque una cottura bellissima. Bene. Ritengo che sia stato cucinato discretamente. Il sapore lo rendeva ulteriormente buono. La salsina effettivamente io non ho capito di com'era composta, però era buona. Il pesce è stato cotto molto bene. Anche nelle mandorle, nella quantità giusta, un ottimo secondo anche per Ramona. Io che ero in cucina e giustamente ho visto la sua precisione più sulla cottura del pesce. Non è arrivata poi a fare la decorazione, però ha valutato molto la cottura del pesce. Bene, anche in questo caso devo dire che è sembrata una buona cottura, è sembrata anche la salsina integrata perfettamente con il pesce. Complimenti veramente, congratulazioni. Cottura buona, accettabile. Ottimo gusto, ottima presentazione e si univano bene sia la salsina che il pesce. Qui si è riusciti anche a fare un ottimo lavoro sull'impiattamento, sulla presentazione, quindi oltre al gusto ha apprezzato anche i nostri occhi, la nostra vista. Cottura molto buona, perché si sentiva proprio la morbidezza del pesce. Presentazione ottimista, ottima. Congratulazioni, bravo. Ottimo il gusto e buona la presentazione, direi, anche del piatto visivamente si presentava bene, ma direi che comunque l'aspetto più importante è il gusto del pesce, mi è sembrato più che buono. Ottima cottura, comunque la presentazione è bellissima. Apprezzabile la presentazione in questo letto di crema, sicuramente bello da vedersi, adatto anche alla cottura, quindi bene. Tre modi di cuocere il pesce, tre diverse strategie da parte dei tre finalisti, anche in questo caso anche Cinzia ha centrato l'obiettivo. Doveva stare qualche altro minutino in più nel forno, però tutto sommato è andato bene. Ora ci fermiamo qui un attimo a decidere con la giuria per scaturire il vincitore di rossetto e cioccolato. Ci siamo trasferiti dinanzi alla piscina della Rosa dei Venti. La decisione è stata presa. Io innanzitutto voglio ringraziare la giuria. Cettina Scaffidi, Antonio Cadili, Beppe Amato e Rosario Pasciuto. Passo la parola allo chef che, avendo deciso, ha una bussa per me, vero? Sì, cioè il verdetto del vincitore o la vincitrice, gliela consegno a lei. Vi faccio i complimenti a tutte e tre della buona riuscita della giornata. Che vinca il migliore. Vorrei spiegare il perché di questa bussa. Noi vogliamo concludere il percorso che abbiamo iniziato al Don Orione. Di conseguenza adesso ci trasferiamo al Don Orione e apriremo la bussa per avere il verdetto. La bussa naturalmente è stata firmata da tutti e questa l'originale. Ringraziamo quindi la Rosa dei Venti per averci ospitato. Grazie per l'ospitalità, grazie mille allo chef che la rappresenta. Grazie a voi. Faccio i complimenti ai ragazzi e ci vediamo al Don Orione. I giudici si sono espressi. Adesso i concorrenti vanno a prepararsi per il gran finale. Si torna all'istituto Don Orione dove il dottor Celona aprirà la busta. Tra pochissimo scopriremo il nome del vincitore. La produzione ha deciso che il giorno della festa e della proclamazione sarebbe stata dopo una settimana nella location che ci ha ospitato per tutto questo tempo. Posso dire che questo scherzo che ci ha fatto per farci aspettare è stato sostanzialmente piacevole. Io ho vissuto questa settimana che è passata dalla prova fino ad adesso un momento di ansia ma anche di serenità. È stata una piacevole ansia. Mi aspetto che vinca Cinzia e spero che vinca Cinzia perché l'ho seguita sin dall'inizio. Il nostro feeling è nato subito dalla prima puntata anche se in realtà sono uscita praticamente subito alla prima eliminazione. Ho comunque seguito tutta la gara e tutto il gioco e il percorso dei vari concorrenti. Questo feeling si è sempre maggiormente consolidato. A parte la preferenza personale, secondo me è una persona molto preparata, in cucina, bravissima. Si trova sempre pronta davanti alle sfide anche quelle che non conosce. Però in realtà ci sono anche gli altri due concorrenti come Pino e Ramona che sono arrivati in finale che sono altrettanto bravi. Io non ho un interesse particolare o una persona in particolare che vorrei che vinca. Sono indeciso fra Cinzia e Pino. Credo che siano i due che meritano parimenti di vincere. Molto probabilmente, dato che ho avuto la possibilità di fare qualcosa con Pino, preferirei Pino anziché Cinzia, ma li vedo, come ho detto già precedentemente, allo stesso livello. La mia preferenza, che è più un fatto affettivo al momento che sono stato in squadra per ben due volte con Ramona, ecco, questa sarebbe, come dire, la mia speranza. Anche se ritengo che comunque sia Pino che Cinzia abbiano una margine di probabilità, anche se sottilmente, in più di aggiudicarsi questa gara. Chiaramente la mia scelta è orientata su Cinzia, grande compagna di questa esperienza, è quella che mi è stata sempre più vicina, è quella che ritengo una donna comunque con tutti gli attributi dietro ai fornelli. Quindi, chiaramente, un po' per affetto, un po' perché comunque la sostengo, ho una grande estima in lei, tipo, chiaramente per lei. Allora, spero che vinca assolutamente Pino. L'ho sempre detto, fin dal giorno in cui sono andata via da questo programma, perché Pino è stata la persona con cui ho legato fin dal primo momento, è quella che è riuscita a manifestarmi la sua sincerità, la sua disponibilità, una persona veramente altruista e quindi mi auguro assolutamente che vinca lui, anche se tutti e tre i finalisti sono veramente dei ragazzi in gamba. Siamo rientrati al Don Orione per la proclamazione del vincitore della prima edizione di Rossetto e Cioccolato. Io ringrazio tutti per questa grande avventura, per questa esperienza. Per me, dico solamente che hanno vinto tutti, hanno vinto, diciamo, tutti coloro che ci hanno ospitato, il Don Orione innanzitutto, hanno vinto i concorrenti che sono stati bravissimi, però chiaramente un nome c'è in questa bussa. Io chiedo al Dottor Celona di aprirla e proclamare il vincitore. Siamo arrivati, siamo al verdetto, pochi secondi e sapremo chi è il vincitore. È banale dirlo, io spero di vincere, quindi c'è abbastanza ansia. Sono accanto al Dottor Celona, quindi inevitabilmente preferisco girarmi, volgere lo sguardo all'altro lato per non vedere anzitempo il vincitore. Stavo aprendo la busta e quindi l'ansia, l'adrenalina sale. Sicuramente pensi che probabilmente ti meriti, sicuramente essere qua e forse la vittoria te la meriti. Certo l'ansia c'è, i tuoi amici sono là che aspettano e quindi il momento è veramente critico. Io tremo, spero che vada bene, però sono convinto di aver fatto un'ottima prova. I finalisti, come sapete, sono Cinzia, Pino e Ramona. Purtroppo Ramona ha avuto un malessere e non è qui con noi. C'è un video messaggio in cui lei farà il suo saluto. Ciao a tutti, mi dispiace non essere lì con voi stasera, però purtroppo sono stata colta da un malore e quindi non sono potuta arrivare in tempo. In ogni caso con il cuore sono vicino a voi, spero che vinca chi ha fatto davvero meglio in quest'ultima prova e ovviamente mi auguro di essere io, ma sarà andata bene comunque perché è stato un bel gioco e un bel divertimento. Ci vediamo più tardi. Io chiedo al dottor Celona di aprire la busta e proclamare il vincitore della prima edizione di Rossetto e Cioccolato. C'è tanta emozione! Il vincitore è... Gerard... no! Mi costringa a girare verso... Oh! E allora il vincitore si chiama... Pino! Il vincitore è l'infredditore Giuseppe Coniglio. Tanta felicità per lui. Ho vinto, ho vinto. Questo è il momento più bello di tutti questi mesi. Ho vinto, credo di averlo meritato, ho fatto un'escalation di prove, effettivamente ho lavorato su qualche formazione di qualche cosa, sono estremamente contento, sono felice, sono conflice anche di essere arrivato in finale insieme alle due concorrenti che probabilmente sicuramente anzi meritavano la finale per come sono comportati. quindi sono più felice ancora per quando si vince con qualcuno che sa fare, insomma, sa cucinare la vittoria ancora più bella. Quindi io credo di godermela, di essere meritata, questo sono assolutamente contento. Grazie a voi perché come ho detto poc'anzi è stato veramente un po' cere conoscere tutti quanti i concorrenti che sono veramente bravi e soprattutto lo spirito, l'amore e la cosa che mi ha stupito è questa fratellanza che è nata così spontanea, così bella di collaborare e posso dire che veramente avete raggiunto livelli molto molto alti che personalmente non pensavo, anche noi abbiamo appreso tanto da voi, quello che ci resta è il ricordo più bello di avervi conosciuto quindi un grazie lo diamo noi altri a nome di tutto l'istituto, a nome dei ragazzi del Don Orione Adesso inizia la festa con tutti i ragazzi del Don Orione Le immagini della festa saranno trasmesse giovedì prossimo alle ore 21 su RTP Non mancate per l'appuntamento conclusivo di Rossetto e Cioccolato Grazie a tutti